L'obiettivo era quello, ci siamo riusciti, eravamo consapevoli di una certa capacità ma anche dell'avversario che avevamo di fronte. Sicuramente la partita di secondo tempo è stata giocata in un altro modo, perché forse siamo andati a riposo con troppa superficialità e siamo rientrati in gioco e si è visto, ci hanno fatto un break di 3-0 e ci siamo calati un po', però comunque abbiamo giocato di squadra fino alla fine, 60 minuti nelle gambe ce l'abbiamo, quindi è andato bene. L'abbiamo giocato fino alla fine, siamo dispiaciuti, rammaricati, abbiamo lo stato fino alla fine, bene, il risultato parla chiaro, abbiamo perso però usciamo a testa alta dall'incontro contro il caso. Domani giochiamo con il test e vogliamo onorare la maglia e andare avanti, è un progetto da finire con il mister, stiamo crescendo, siamo un gruppo giovane, quindi testa basso e dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare.